Anus, mi scrive Francesco e mi chiede, maestro, grazie al suo prana cosmico lei riesce a guarire tutte le malattie mentali, ma perché allora ha smesso di curare le persone che soffrono di déjà vu? Ma è semplice, perché dopo la seduta gli chiedo la parcella e mi dicono, ma è già pagato?